benvenuti al secondo appuntamento dei santi della nostra abbazia siamo quest'oggi di fronte al secondo altare laterale l'altare minore l'altare di destra dedicato a san pietro da verona maggiormente conosciuto come san pietro martire innanzitutto diamo uno sguardo all'altare un altare elegante questo un altare slanciato e ricco di molti colori potete osservare dalle immagini il colore rosso il violetto il bianco e altri colori che si intrecciano in una maniera dicevo appunto elegante e slanciata anche questo altare notiamo è dotato di tabernacolo e ha un bellissimo pagliotto che adesso è coperto della tovaglia un po perché siamo nel tempo pasquale abbiamo le tovaglie più belle fatte a mano è ricco di colori marmore ma veniamo al santo innanzitutto lo vediamo raffigurato in questa splendida pala pensate che questo quadro è stato dipinto nel 1500 quindi questo quadro è più vecchio della chiesa che della fine del settecento un quadro della scuola del moretto e l'autore dovrebbe essere un certo galeazzi che ha dipinto anche parecchi quadri nella città di brescia dicevo veniamo al santo san pietro mattire nato a verona nel 1205 i suoi genitori suoi parenti erano eretici erano catari e fin da ragazzino lui non andava d'accordo con i suoi parenti i suoi genitori per questa scelta che loro avevano fatto ma cerchiamo di capire chi erano i catari erano persone che affermavano sostanzialmente che gesù avrebbe avuto solo in apparenza un corpo mortale negavano quindi la vera umanità di gesù questa fede distorta era parecchiamente diffusa ai tempi di pietro nel 1200 ma pietro era una persona determinata compì gli studi all'università di bologna entrò poi nell'ordine domenicano quando san domenico fondatore appunto era ancora in vita e anche lui come sant'antonio è stato un santo predicatore quindi ha viaggiato tantissimo nel 1236 lo troviamo in tutte le città centro settentrionali come dell'italia come anche fu un grande predicatore contro questa eresia milano fu il suo campo principale di apostolato pensate che durante le sue prediche pubbliche durante le sue dispute contro gli eretici ecco queste prediche erano accompagnate addirittura da miracoli da profezie e molti sentendolo tornavano alla vera fede del vangelo pensate che il papa sapendo della sua fama della sua bravura nel 1251 lo nominò inquisitore per la città di milano e como la lotta fu dura in quel periodo perché l'eresia era davvero diffusa pensate un po nella domenica delle palme del 24 marzo 1252 durante una predica egli predisse la sua morte disse guardate presto degli eretici mi uccideranno e aggiunse non preoccupatevi di sei fedeli vi vi aiuterò o meglio combatterò di più l'eresia più da morto che non da fu così che i capi delle sette città di milano bergamo lodi pavia e altre assunsero come esecutori dei killer di allora un certo pietro da balsamo detto carino si vede che era bello e albertino porro di lentate che cosa dovevano fare tendergli un agguato allora vicino alla città di meda siamo sempre nel milanese dove pietro domenico e altri domenicani erano in tragitto verso como a milano da milano il 6 aprile 252 si erano fermati a fare colazione per ristorarsi un po prima di proseguire per la loro strada ecco che in quella mattina i due si avvicinavano albertino ricredendosi abbandonò l'opera e fu solo il carino che con un falcastro cioè un tipo di falce spaccò la testa di pietro immergendogli anche un lungo coltello nel petto lo vediamo dal quadro vediamo questa sua uccisione addirittura nella parte sinistra del quadro si può notare se guardate bene il suo killer che lo prende per la testa gli conficca questa falce appunto nella testa e anche in mezzo dove lui era figurato con la croce con l'angelo che gli porta la palma del martirio vedete che proprio sulla testa in mezzo alla testa questa falce questo coltello è appunto che ricorda il suo martirio ecco il corpo di pietro fu trasportato subito a milano ed ebbe delle esegue trionfali tuttora possiamo trovare il suo corpo nella chiesa di sante ostorgio a milano e il grande clamore suscitato dall'uccisione ma i tanti prodigi che avvenivano fecero sì che da tutte le parti si chiedesse un innalzamento agli altari del santo martire e 11 mesi dopo pensate solo dopo 11 mesi papa innocenzo quarto nel 9 marzo 1253 in una piazza della chiesa dominicana a perugia lo canonizzò fissando la data della festa il 6 aprile tutt'oggi lo si festeggia appunto il 6 aprile è raffigurato lo guardiamolo nel nostro quadro con la tonaca domenicana con la palma del martirio con la ferita sanguinante dalla fronte del capo oppure con una roncola che penetra nel cranio e pensate un po san pietro martire con san pietro da verona è tuttora uno dei santi più raffigurati quasi tutti gli artisti si cimentarono a dipingerlo dal 1253 in poi questo è davvero interessante ma vorrei lasciarvi con un ultimo aneddoto una storia che forse sa più della leggenda ma è una storia simpatica di cosa è patrono o protettore san pietro martire pensate un po è patrono delle emicranie del mal di testa non solo probabilmente perché è stato ucciso così brutalmente sulla testa c'è una curiosa storia che fa da sfondo e da spiegazione a questa cosa e si racconta che l'arcivescovo di milano aveva ordinato di realizzare un sepolcro in marmo per custodire le spoglie mortari di san pietro ma il problema si arrivò quando il vescovo si accorse che il sepolcro era troppo corto e le spoglie non ci stavano il vescovo disse mi facciamo così tagliamo la testa la mettiamo in un urna d'argento e il corpo lo mettiamo nel sepolcro pensate un po da quel giorno quando decise così e mozzarono la testa del corpo di san pietro all'arcivescovo venne un terribile mal di testa e il terribile mal di testa passò solo quando la testa di san pietro venne ricomposta e rimessa insieme nel suo sepolcro e da lì in poi divenne il protettore delle emicranie c'è un'ultima tradizione vuole che il giorno del 6 aprile quando ricorre la sua festa bisogna recarsi ovviamente in caso di mal di testa presso la chiesa di santo eustorgio andare al sepolcro di san pietro picchiare un mettino la testa contro il suo sepolcro e si dice che si sia protetti per un anno intero contro le emicranie chissà proveremo cosa dite questo santo comunque ci insegna una grande fermezza di vita che viene da una convinzione assoluta nella fide professata allora quando veniamo nella nostra chiesa magari maniera frettolosa giustamente entrando guardando prima al tabernacolo ci mancherebbe lì c'è il signore che ci aspetta però impariamo anche a volgerci al secondo altare di destra quello di san pietro perché fermandoci davanti a lui possiamo chiedergli di intercedere presso dio perché possiamo avere anche noi come lui una fede forte per poter vivere tenacemente ogni giorno la nostra vita da cristiani ci vediamo al prossimo altare laterale con i nostri santi patroni i santi vitale marziali